napoleon sedan 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 buongiorno a tutti non mi sono rimbambito è semplicemente uno scioglilingua francese che tradotto significa napoleone cedendo sedan perse i suoi denti questo scioglilingua ironico venne a essere a definire la sconfitta della battaglia di sedan che iniziò il 31 agosto del 1870 esattamente 150 anni fa e che determinò la fine del secondo impero francese intendendo ovviamente per napolone napolone terzo e questo il video di oggi vuole in qualche modo ricordare la battaglia di sedan battaglia decisiva ma non conclusiva della guerra franco prussiana appunto del 1870 che iniziò alla fine di luglio del 1870 sarebbe protratta ancora fino ai primi mesi del 1871 con tutta una serie infinita di momenti di riflessione che appunto portarono il governo francese ad accettare in un periodo armistiziale le durissime condizioni imposte dall'ormai costituito impero tedesco proprio per questo motivo infatti è importante parlare di questo di questa battaglia non solo per l'aspetto militare ma soprattutto per l'aspetto politico perché questa battaglia che molto probabilmente nell'ottocento è seconda solo alla battaglia di vaterlo che aveva visto appunto la sconfitta del primo impero francese con napoleo con la definitiva scomparsa dallo scenario politico di napoleone primo e in questo senso la la francia rinnovata nelle proprie istituzioni con la terza repubblica una terza repubblica che avrebbe avuto un travaglio molto molto appunto una vita molto agitata un travaglio molto lungo nonostante appunto la vittoria nella prima guerra mondiale che sarebbe finita con un'altra cosciente sconfitta contro i tedeschi con un'altra invasione da parte della germania del territorio francese della capitale francese soltanto nel giugno del 1940 con questi 70 anni di terza repubblica francese dall'altra parte abbiamo l'ascesa dell'astro nascente appunto della ormai germania unificata l'impero tedesco che aveva in qualche modo il secondo reich in qualche modo la il fulcro nel cancelliere Otto von Bismarck che in maniera molto molto precisa e molto molto calcolatrice aveva offerto con la sconfitta della Danimarca prima la sconfitta all'impero austriaco e appunto tra il 1870 al 1871 la sconfitta dell'impero francese reso la germania da prussia una prussia anche provinciale la principale potenza continentale dell'europa e questo appunto si sarebbe poi protratto fino alla prima guerra mondiale e anche dopo con gli strascichi nazisti ma cosa cosa ci dice la battaglia di Sedan? La battaglia di Sedan che si colloca cronologicamente ad appena un mese dall'inizio delle ostilità vere e proprie e che appunto definì la prima spallata insieme all'assedio di Metz delle grandi unità francesi che appunto con questa sconfitta sostanzialmente aprirono le porte all'invasione del nord del paese con anche un lungo assedio di Parigi ma perché le truppe francesi ebbero questa sconfitta perché i tedeschi i prussiani e insieme ad essi la comunità più generale dei tedeschi del sud che appunto andavano a irrobustire la compagine tedesca germanica ma allora si può dire innanzitutto le cause scatenanti che furono evidenziarono proprio il rapporto tra l'aspetto arcaico della mentalità francese e l'aspetto innovativo della mentalità tedesca la guerra che venne dichiarata va precisato dalla Francia contro la Prussia scaturì per cosiddetti futili motivi il problema dinastico della successione spagnola in Spagna era necessario trovare una nuova dinastia che continuasse appunto il regno iberico la Francia non guardò di buon occhio i papabili o enzollern tedeschi una Francia che aveva già avuto nonostante la vittoria nel 59 nella seconda quella di indipendenza al fianco dell'Italia contro l'impero austriaco aveva avuto un decennio particolarmente sofferente non era riuscita nelle trame messicane per cercare di allargare le proprie influenze e in questo senso cercava un po' di ostruire un nuovo accerchiamento tedesco memore di quello avvenuto all'inizio del Cinquecento con Carlo V, Carlo V d'Asburgo che reggeva contemporaneamente l'impero tedesco e la Spagna e quindi il tentativo di ostruire questo nuovo accerchiamento dei tedeschi comportò appunto l'attacco, la dichiarazione di guerra prima e l'attacco alla Prussia non considerando però i grossi limiti che la struttura militare francese aveva. La struttura militare francese era costituita essenzialmente da un esercito di caserma con delle riserve piuttosto leggere, piuttosto inconsistenti, aveva sicuramente una buona fanteria armata con i famosi fucili chaspeaux a retrocarica che avevano un proprio apporto tecnologico all'epoca in un indifferente ma videro cimentarsi contro un esercito come quello tedesco costituito da riserve ben addestrate con un sistema anche di mobilitazione costante e soprattutto una mentalità innovatrice. Il progresso per esempio nelle artiglierie la Krupp era all'epoca la principale costruttrice non solo tedesca offrì l'occasione per dare un grosso slancio all'uso dell'artiglieria e appunto i francesi trovavano molto spesso accerchiati in attesa dello scontro fisico che non sarebbe mai avvenuto perché furono falcidiati dalle artiglierie che lì circondavano e quindi ovviamente i cannoni hanno un tiro maggiore di fucili e il fucile in questo caso va a perire se non vi è l'attacco ravvicinato. E oltre a questo vi fu indubbiamente una preminenza della mentalità come dicevo una mentalità manovriera tedesca legata all'iniziativa rispetto a un criteri molto più legati all'obbedienza francese dove i francesi aspettavano gli ordini e solo quando gli ordini sarebbero arrivati avrebbero agito mentre i tedeschi avevano una mentalità che era legata anche all'improvvisazione quindi cercare di non che questo non li esentasse da possibili errori però sicuramente tra le due mentalità quella tedesca andò a prevalere e appunto fece la differenza proprio per una capacità di dinamismo e di capacità di accerchiamento di manovra che poi sarebbe stata la chiave di volta almeno nei primi mesi della prima guerra mondiale e poi anche nella seconda guerra mondiale quindi questa è una costante che venne a imporsi negli scenari tattici e strategici della guerra contemporanea tra la fine dell'ottocento e la prima metà del novecento. Altri elementi interessanti possono essere legati alle uniformi. Gli uniformi francesi erano particolarmente vistosi, praticamente quindi antiquate, i tedeschi avevano le proprie le proprie uniformi turchine che non che fossero mimetiche però avevano sicuramente una minore visibilità rispetto a colorazioni più vistose appunto dei francesi. E un altro elemento importante è il rapporto tra potere militare e potere politico. Se i comandanti tedeschi, i von Molke in primis, avevano una propria capacità decisionale molto marcata, dall'altra parte l'imperatore aveva ancora le redini della conduzione del conflitto e spesso andava a intralciare con le decisioni in subordine. Quindi da questo punto di vista l'esercito francese aveva indubbiamente una componente di base buona, però i medi e alti ranghi erano piuttosto scarsi legati a tradizioni, a una certa nobiltà poco professionale e di conseguenza, come si dice, il pesce puzza dalla testa e di conseguenza gli esiti furono quelli che furono. L'esito diplomatico fu con il trattato di Francoforte del maggio del 1971, la perdita dell'Alsazia e della Lorena, che sarebbe stato un motivo di scontro, di revanche da parte dei francesi per i successivi 45 anni e allo stesso tempo con il mostrarsi di tutte le contraddizioni della società francese, tant'è che l'esercito prussiano sostanzialmente vinse due guerre, vinse quella contro l'impero, contro l'esercito imperiale a Sedan, ma poi vinse anche contro quello popolare, quello della Repubblica che cercò in qualche modo di serrare i ranghi e di rendere il più nazionale possibile il conflitto. Entrambe le guerre francesi vennero a essere perse, quindi da questo punto di vista tanto di cappello, chapeau, come direbbero i francesi appunto, all'esercito ormai imperiale tedesco. Quindi oltre alla perdita dell'Alsazia e la Lorena vennero inflitte delle severissime e durissime condizioni economiche con delle forti riparazioni da versare come indennità e quindi poi lo strapotere tedesco egemonico per i decenni a seguire. Lo strapotere tedesco che ebbe a esplicarsi anche attraverso l'esame del sistema militare, tant'è che appunto fino a quel momento erano state le correnti di pensiero che vedevano come l'esercito di caserma professionale francese come il massimo e il migliore possibile, da quel momento in poi venne a definirsi il modello tedesco. Questo sarà un dibattito che a partire dagli anni 70 con le varie riforme rigotti sarebbero state di pubblico dominio anche in Italia. Un'Italia ormai autonoma dagli schemi tradizionali appunto ormai morta, sepolta la propria madrina francese per fortuna dell'epoca perché appunto si sarebbe risolta da lì a pochi giorni il 20 settembre del 70 anche la questione romana almeno per la sua propria parte territoriale e di conseguenza da quel momento in poi si sarebbe iniziata un avvicinamento verso Berlino e con la necessità che la strada da Roma a Berlino passa inevitabilmente per Vienna e questo con tutti gli esiti che sappiamo triplice alleanza e conseguenze varie. Detto questo vi invito come al solito a mettere mi piace al video iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!